Ecco Sindaco, ieri sera il lungomaro di Gioia Tauro è stato preso ad assalto di tutti i cittadini, addirittura è dovuto intervenire le forze dell'ordine. Sì, infatti ieri è stato il primo giorno della fase 2 e quindi in tanti hanno sentito l'esigenza di riversarsi sulle strade, in modo particolare sul lungomare. E' chiaro che non va bene questa situazione, tanto è vero che poi a un certo punto sono dovuti intervenire le forze dell'ordine per fare sgombrare il lungomare. Ora noi dobbiamo avere la massima prudenza per poter andare a lavorare, per poter fare le passeggiate, per poter uscire di casa, ma senza recarci danno alla nostra salute e a quella dei nostri cari. Quindi dobbiamo essere molto collaborativi come lo siamo stati fino a qualche giorno fa, quindi abbiamo l'esigenza di far rispettare le regole governative e le ordinanze sindacali. I cittadini devono avere questo buonsenso, questa cosa di saper tutelare la loro salute e quella dei loro figli, attraverso il rispetto delle regole. Quindi io vorrei lanciare ancora un'opera un appello ai miei concittadini di rispettare le regole, perché senza le quali non saremmo arrivati a questa situazione. Se oggi abbiamo zero casi dal coronavirus a Gioia Tauro è dovuto al fatto che siamo stati tutti previgenti e prudenti e quindi abbiamo saputo rispettare le regole e questo ci ha aiutato moltissimo. Ancora siamo in fase di pandemia, quindi nessuno si illuda che il rischio epidemico è cessato. Sino a ieri si è verificato che un cittadino proveniente dal nord a Rosarno ha portato il coronavirus e quindi dobbiamo essere molto prudenti perché la stessa cosa potrebbe capitare anche a noi con gli arrivi che provengono dal nord. Noi non è che dobbiamo impedire la loro presenza, dobbiamo saper governare il loro arrivo attraverso la comunicazione, attraverso l'informazione, attraverso anche la collaborazione di quei cittadini che ci devono segnalare casi sospetti. Solo così riusciamo a tutelare meglio la salute di tutti e di tutelare l'interesse della nostra comunità. Ecco, da stamattina è aperto anche il cimitero di Gioia Tauro. Sì, stamattina abbiamo aperto anche il cimitero, sono andato anche a fare un giro di ispezione. Se ci manteniamo con la giusta cautela, con l'intestanziamento sociale, con la mascherina, allora gradualmente possiamo riaprire tutto e io voglio riaprire tutto, però lo dobbiamo fare con la prudenza dovuta perché non è sufficiente aprire tutto per debellare il coronavirus. Noi dobbiamo essere collaborativi in modo tale che non ci facciamo del male da soli. Io quest'estate vorrei andare nella spiaggia di Gioia Tauro a farmi bagno assieme ai miei concittadini, però dobbiamo ancora per qualche settimana essere rispettosi delle regole per debellare, sconfiggere in modo definitivo il virus che ancora permane in Italia e in Calabria. Dopo le restrizioni del governo, ieri fase 2, si riaprono alcune attività, si può uscire. Tu hai adottato qualche normativa tua, comunale? Sì, qui a Gioia Tauro abbiamo permesso la riapertura dei bar, ma non per fare servizio da banco, ma per fare servizio da asporto e per fare servizio a domicilio. Quindi noi alcune attività le abbiamo fatto riaprire con una certa prudenza. Ancora non siamo nelle condizioni di poter dire riapriamo il bar e andiamo a prenderci un caffè al banco. Dobbiamo avere la pazienza di aspettare qualche altra settimana, vediamo come si evolve la curva epidemica in Italia e in Calabria e se continua a scendere è chiaro che riapriremo anche altri settori. Io mi riferisco ad esempio al settore dei mercatali, degli ambulanti. Ancora non siamo pronti per fare il mercato del lunedì, però questo non significa che non ripartiamo anche con il mercato del lunedì, ma con la giusta prudenza e con la giusta collaborazione di tutti e col giusto controllo, perché se io non sono in grado di fare i dovuti controlli non vado ad aprire delle attività ingestibili, incontrollabili che mi possono mettere a rischio e a pericolo la salute dei miei concittadini.